Musica Domenica 9 agosto è in programma il quarto memorial Pasquale Ragucci, ne parliamo con l'organizzatore Bruno Ragucci. Le domeniche si rinnova il quarto memorial Pasquale Ragucci, nonostante questa difficoltà o questo covid che ha causato tanti problemi, non era predisposto però siccome mio fratello Giuseppe l'ingegnere ci teneva tanto, l'abbiamo fatto in una misura un po' più ristretta. Visto che l'anno scorso l'abbiamo fatto qui in zona Cervinare, quest'anno non è stato possibile per le autorizzazioni, siamo stati costretti nelle zone più vicine e siamo dovuti andare da Pastore a Benevento. E per dirvi voglio parlare di Pasquale, Pasquale purtroppo è una persona che è indimenticabile, vive giorno per giorno in me e soprattutto era un personaggio conosciuto da tutti qua a Cervinare, una persona di grande stima, un vero gentil'uomo e la mancanza ogni giorno che passa si sente sempre di più e per questo cerchiamo di mantenere sempre in alto la sua memoria, dedicargli questo memorial. Bruno, quanti saranno i partecipanti? I partecipanti abbiamo fatto in una maniera un po' più ristretta, visto che le difficoltà saranno 25 in tutto, saranno tutti premiati come al solito e tutta l'iscrizione, tutto omaggio, non si paga niente come al solito che abbiamo fatto sempre. Mi auguro che sarà una bellissima giornata e un bocca al lupo a tutti. Vuoi dire un po' come si svolgerà la gara? La gara è per cani da ferma, si svolgerà 10 minuti a testa ogni concorrento singolo con selvaggine in messa e soprattutto senza uso di armi, senza sparo. È una gara per amatoriali, una gara per cani da caccia. La mobilitazione per la raccolta delle adesioni per dire no al biodigessore a Chianghe in tutte le aree DOC-G e di tutela della provincia di Avellino sta procedendo con un consenso crescente e questo fa capire come il messaggio della nostra battaglia di civiltà sia stato recepito dai cittadini che hanno compreso che non è una mobilitazione di un solo territorio, tanto meno di una categoria produttiva, ma dell'intera Irpinia. Così, in una nota, il Comitato Nessuno Tocchi l'Irpinia, che rilancia la battaglia contro il biodigessore di Chianghe e continua la raccolta di firme. Il sacrosanto ciclo integrato dei rifiuti si realizza coinvolgendo le popolazioni locali, studiando e programmando il rispetto delle tipicità dei territori e localizzazione degli impianti e non ricorrendo a bandi a chiamato attraverso le forzature degli enti da ambito competenti. La petizione si sta svolgendo, oltre che in quelle dell'areale del Greco Idufo e degli altri docchi irpini, in tante altre realtà irpine, nonché in diversi importanti comuni della provincia, come Avellino, Atripalda, Montoro, Mercogliano, Caposere, Torella dei Lombardi, San Martino Valle Caudina, Mano Calzati, spesso promosse attraverso iniziative spontanee di cittadini e di associazioni. La raccolta è sostenuta in tutta l'Irpinia in modo ramificato, oltre che dai comuni, anche dalle proloco, dal mondo della ristorazione e dell'associazionismo enogastronomico, dalla filiera delle cantine, dai viticoltori e dalle associazioni di categorie ambientaliste, da operatori di diverse categorie commerciali, delle forze sociali e dell'imprenditoria diffusa. Inoltre, per estende la petizione a quella cartacea e territoriale, è stata affiancata quella online, che in una sola giornata ha già registrato diverse centenze di adesioni. Ringraziando quanti si stanno praticando in questa straordinaria testimonianza di partecipazione civile, fiduciosi del consente e del risconto che si sta riportando, continuiamo, si legge alla nota, l'impegno della mobilitazione, informando e sensibilizzando l'obinione pubblica con tante iniziative, per giungere alla giornata provinciale di mobilitazione non stop, che si errà venerdì 28 agosto nella città di Avellino. Un saluto a tutti gli amici di Rete 6, da Fabio Marucci e Carlo Falzalano. Allora Fabio, vogliamo dare qualche indicazione sul tempo a partire da domani? Allora, sì, diciamo che il tempo per quanto riguarda la giornata di domani risulterà ancora nel complesso molto variabile su tutta la regione, ma specialmente a tratti anche perturbato sul Salernitano e la Vellinisse. Le temperature resteranno stazionarie molto simili alla giornata odierna. Per quanto riguarda la giornata di sabato, Carlo? Allora, per quanto riguarda sabato avremo sempre questo rigenerarsi dell'instabilità, soprattutto sul centro della regione nelle ore pomeridiane. Andrà meglio sulle zone occidentali e costieri. Le temperature subiranno un piccolo aumento rispetto alla giornata di venerdì, dove registreremo già i primi picchi di 30 gradi. Fabio, per quanto riguarda domenica? Allora, domenica il tempo risulterà ancora di più in miglioramento e ci aspettiamo un aumento anche sensibile termico. Infatti i valori potranno comunque arrivare fino a 33-34 gradi, specialmente nel centro della regione. però c'è ancora da segnalare la possibilità di rovesci o qualche temporale, specialmente sempre sul lato salernitano e della Vellinese. Ricordo che le nostre sono previsioni sperimentali basate sui global model e gli indici termodinamici. Per i bollettini ufficiali vi invitiamo a rivolgervi alla protezione civile nazionale o regionale. Ok, allora, abbiamo detto tutto Carlo. Un caloroso saluto al prossimo aggiornamento. Arrivederci. La tentazione di rimettermi è stata forte, ma ho deciso. Rappresenterò e guiderò questo conservatorio fino al 31 ottobre prossimo. E' solo un passaggio della lettera che il direttore del conservatorio di musica Nicola Sala di Benevento, Giuseppe Ilario, ha inviato ad allievi, colleghi e personale. Tra qualche giorno sarà a ferragosto. E' il meritato riposo che ci siamo guadagnati quest'anno più che mai e che arriva dopo mesi terribili in cui siamo stati costretti all'improvviso ad abbandonare le nostre abitudini di vita e di lavoro. Nessuno di noi era preparato a quanto accaduto. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato di vivere in un momento simile. Possiamo tutti essere orgogliosi di quanto abbiamo fatto, si legge ancora nella lettera di Giuseppe Ilario. Guardiamo al futuro, dunque. Il prossimo 2 novembre decadrò dalla carica e subenterà il nuovo direttore eletto, che di certo sarà un collega e un amico. Sei anni fa, in mio primo collegio, avevamo 650 allievi, poche decine di ammissioni, una sparuta produzione di concerti. Lascerò il mio posto con una situazione ben diversa. 1.300 allievi, il secondo più grande conservatorio d'Italia, decine e decine di concerti sul territorio, centinaia di domande di ammissioni. Tutto questo non nasce per caso, senza molto lavoro, senza una squadra coesa fatta di oltre 140 persone. Gli attacchi a me, al nostro Presidente e al Conservatorio, partiti strumentalmente dall'esterno, ma concepiti e manovrati bene dall'interno della nostra istituzione, mi hanno colpito e amareggiato. Per bassi giochi di potere, ho visto all'improvviso dimenticato e vanificato tutto il lavoro fatto, mentre lingue velenose dipingevano una inesistente realtà di barricate innalzate a difendere un fortino. La tentazione di dimettermi, scrive ancora Ilario, è stata forte, perché non volevo trovarmi immischiato in polemiche di tanta bassa lega, soprattutto ripensando a tutti gli sforzi compiuti, voi per consentire al Conservatorio la sua anormale normalità durante il lockdown, non vuoi per pianificare la fase della ripresa delle elezioni in presenza, che avverrà a settembre, almeno per il 50% del Monte Ore di ciascuno. C'è stato però chi mi ha detto che non ne valeva la pena, che avrei dato ragione ai malpensanti, eppure chi mi ha detto che dovevo difendere i miei sei anni di crescento rossiniano, incoraggiandomi a restare. Così ho deciso. Rappresenterò e guiderò questo Conservatorio fino al 3 ottobre prossimo e non permetterò più a nessuno di infangarlo. A settembre niente sarà più come prima, nella vita e nel lavoro, ma noi saremo pronti a ricominciare in sicurezza e in presenza per tutto il tempo che potremo, cioè il 50%, mantenendo l'altro 50% online. Ricominceremo con la produzione artistica, mantenendo le precauzioni sanitarie e le distanze. Di tutto questo non dovremo spaventarci. Niente sarà più come prima, è vero, ma cambiare è quel che succede continuamente nella vita. Non sarà diverso neanche adesso. Come sempre, come abbiamo sempre fatto, cambieremo ancora, una volta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.